Radio Bruno Sono Marco Franzelli, sindaco di Roccafranca. Ci troviamo alla tredicesima edizione della Sagra del Quarantì, una sagra che è nata proprio per la valorizzazione del territorio di Roccafranca e Ludriano, ma anche un po' il territorio bresciano e le sue origini contadine, quindi con la riscoperta di questo mais, un mais per l'utilizzo della farina che poi si può utilizzare per la polenta e quindi la polenta quarantina. La tradizione appunto nasce, la storia poi della nostra sagra nasce sul voler valorizzare appunto questo prodotto, un po' un'eccellenza dell'enogastronomia del territorio, quindi che nell'epoca si era un po' diciamo persa questa tradizione per un'evoluzione poi del tessuto agricolo e abbiamo voluto proprio far rivivere e rinascere all'interno ovviamente di questo contesto della sagra. È una sagra molto ricca di attività e quindi l'invito è quello di raggiungerci tutti a trovarci nei giorni 1, 2 e 3 di settembre, in particolar modo sabato 2 abbiamo poi l'esposizione dei mezzi agricoli e quindi racchiude un po' questo binomio tra mezzi agricoli della tradizione, quindi mezzi antichissimi con quello che è un po' l'evoluzione 4.0 dell'agricoltura e quindi anche mezzi di nuova generazione. Oltre a questa esposizione bellissima abbiamo poi i nostri tradizionali mercatini degli hobbisti, abbiamo poi anche una bellissima serata danzante con il gruppo dei Philadelphia che quindi per i nostri amici appassionati del ballo è un appuntamento imperdibile e poi tante ovviamente proposte anche per i nostri bambini, quindi i giochi, i laboratori a cure delle nostre associazioni del territorio di Roccafranca e Ludriano che impegneranno anche le famiglie. Per la domenica è imperdibile alle ore 9 il taglio del nastro con la partecipazione di tantissime autorità civili, militari e religiose con il passaggio delle nostre aquile del Quarantì, quindi questi aerei ultraleggeri che sorvolano i cieli di Roccafranca mentre poi staremo tagliando il nastro e successivamente una mattinata ricca anche di musica con la nostra banda Santi Gervasi e Protasio e i tradizionali raduno di moto e auto d'epoca che racchiude veramente tantissimi motoclub della zona e anche della Lombardia per poi continuare anche con il raduno dei tradizionali trattori che con i loro carretti ospiteranno tanti bambini all'interno supportati da tutte le associazioni di categorie che ringrazio perché sono sempre parte attiva della nostra sagra. Si continua alle ore 12 con il tradizionale spiedo bresciano nella zona ristoro, quindi la polenta quarantina che si sposa ovviamente con questo buonissimo piatto tipico della tradizione bresciana, ma voglio sottolineare anche un aspetto fondamentale di questa tredicesima edizione a Sagra dei Quarantì che visto che siamo nell'anno Bergamo-Brescia, capitale italiana della cultura, la cultura e anche tradizione agricola, la cultura e anche valorizzazione di quello che sono delle peculiarità bergamasche e bresciane, abbiamo fatto un gemellaggio proprio con il comune di Martinengo e la loro Sagra della Patata e quindi troveremo domenica un piatto proprio che racchiude queste due caratteristiche, quindi un piatto, un gnocchetto che si utilizza quindi la patata di Martinengo, la farina quarantina di Roccafranca e esce ovviamente questo piatto deco quindi denominazione rige comunale che è un gnocchetto con una fonduta di parmigiano che è un po' diciamo il simbolo della tradizione anche lombarda e quindi anche questo va a completare quella che è una proposta di questo menù di domenica a pranzo. Per poi continuare il pomeriggio ancora con attività e laboratori per le nostre famiglie e i nostri bambini abbiamo anche una bellissima esibizione dell'unità cinofila Madonna della Strada di Ponte Vico che anche lì può essere veramente molto curiosa anche come proposta che offriamo sempre per le famiglie per i più piccoli e poi un bellissimo evento inedito all'interno della nostra tradizionale Sagra è quello del volo sui cieli di Roccafranca con una mongolfiera quindi al campo sportivo alle ore 17 aspettiamo tutti dai più piccoli ai più grandi proprio per potersi godere questa bellissima proposta e questo bellissimo progetto quindi fare un volo con questa mongolfiera. Poi si continua ovviamente la giornata con tante proposte anche di magia e di intrattenimento lungo le vie di tutta la Sagra insieme ai nostri obisti e ai nostri commercianti del territorio e poi si arriva ovviamente nella parte finale della serata dove avremo un momento di premiazione a tutte le associazioni, tutti i collaboratori, ci sarà l'estrazione della lotteria del quarantino quindi acquistate non solo la nostra farina quarantina ma anche i biglietti della nostra lotteria con tantissimi ricchi premi e si concluderà poi alle ore 22 e 30 sempre al campo sportivo con il tradizionale grande spettacolo pirotecnico che va un po' a chiudere quella che è la tradizione della nostra Sagra e va a completare tutto diciamo il palinsesto del programma di questa tredicesima edizione per festeggiare tutti insieme e dare un grande arrivederci a tutti al prossimo anno per cominciare già a lavorare sulla quattordicesima edizione a Sagra del Quarantì. Quest'anno poi abbiamo voluto creare anche una trasversalità di collaborazioni infatti la proposta della Sagra del Quarantì si incastra all'interno della tradizionale fiera di orzi nuovi e quindi abbiamo voluto con queste due proposte a pochi chilometri di distanza cercare di coinvolgere tutto il territorio lombardo a venire a riscoprire quelle che sono le bellezze e le tradizioni di due territori che sono inseriti nel contesto della bassa bresciana vicino alle sponde del fiume Oglio che è una caratteristica ovviamente dei nostri paesi che però va a ulteriormente arricchire quella che è la proposta di un cicloturismo, un turismo fluviale e un turismo enogastronomico quindi l'invito è quello di venire a trovarci perché sono certo che resterete soddisfatti di queste proposte che abbiamo voluto realizzare e creare per tutti voi e un grande grazie al presidente e a tutto il direttivo dell'associazione Sagra del Quarantì che stanno insieme all'amministrazione comunale portando avanti da 13 anni questa importante iniziativa. Bene sono in atto i preparativi di questa tredicesima edizione della Sagra del Quarantì, la zona ristoro sta cominciando a preparare tutti i piatti dell'enogastronomia e in particolar modo la nostra polenta quarantina che si abbina benissimo a tanti sughi della tradizione un po' bresciana e quindi culinaria, si abbina bene con i formaggi e anche con quella che è la selvaggine quindi l'invito è quello di degustarla, poi abbiamo piatti tradizionali come può essere il classico pane salamine e la patatina o le pizze ovviamente per i nostri piccolini. Tutto questo non poteva mancare per far degustare a tutti quello che poi sono un po' le origini di quello che è il territorio di Roccafranca e Ludriano e a seguirci ovviamente in questa tredicesima edizione non poteva mancare Radio Bruno che ovviamente ci accompagnerà in questo bellissimo percorso di questi tre giorni della tredicesima edizione della Sagra del Quarantì. Lo spiedo, la polenta, il pane salamina, lo zola, la selvaggina è veramente un best seller del nostro territorio e quindi non potete non venire a degustare questi piatti e poi portarvi a casa un chilo di farina quarantina perché potrete poi farla assaggiare amici e familiari e quindi potrete anche ampliare quello che è il panorama di questa degustazione.